Grazie a tutti. Da quando è laureato, quindi sono 28 anni, credetemi, oggi abbiamo bisogno proprio di questo, di coesione, di collaborazione, di condivisione, di unità, di un gioco di squadra. Di un gioco di squadra che chiaramente trova in questo evento un fautore unico nell'amministrare il gioco di squadra, Giorgio Terziani. Che è veramente di una indole empatica e ci sta permettendo e ci sta facendo convincere che la vera ricchezza dell'umanità sta nella diversità. E nell'unione della diversità c'è un potenziale che ancora non abbiamo sviluppato e che probabilmente impareremo a sviluppare, dove chiaramente ci sono delle forze superiori che le regolano. Però noi abbiamo un compito, un compito severo, che è quello di portare avanti, perché se l'abbiamo intuito, l'abbiamo compreso, ancora di più dobbiamo essere coerenti con questo viaggio. E io ringrazio, un altro grazie, a tutti i relatori, quelli che mi hanno anticipato, che ho ascoltato con piacere, quelli che susseguiranno al mio intervento e quelli che ci saranno domani. Io domani non ci sarò, mi dispiace, perché mia figlia piccolina mi ha reclamato perché vuole il papà per la festa del papà. E' una figlia di sei anni e devo correre da lei. Mi sembra giusto, visto che tre anni fa ho rischiato di andare via da questa terra, per cui devo andarci. Con questo impeto, chiaramente, mi raccordo alle parole del grande professor Spaggiari, che è la rivoluzione alle porte. Che probabilmente si sta avvicinando il momento in cui cureremo anche con l'energia. Ma, riallacciandomi a quello che ha detto il grande Marcus Stanton, oggi abbiamo una grande possibilità attraverso l'S Drive. E nella mia umile relazione cercherò di farvelo comprendere. Perché abbiamo la possibilità di andare a creare una sorta di linguaggio comune, perché se abbiamo uno strumento che può accomunare il linguaggio con cui si muove il nostro sistema biologico, il linguaggio Pnei, la vera forza vitale dell'organismo. E con l'S Drive non lo possiamo fare, perché l'S Drive intercetta una serie di segnali. Io lo uso da quattro anni e lo sto utilizzando con tanto ardore, perché non solo ci credo, ma sto vedendo l'efficacia clinica. E per me il primo nutrimento è la salute del mio paziente, non il suo denaro. E quindi, visto che fondamentalmente è stato calcolato che ogni essere umano è programmato per vivere 140-150 anni, questa è una donna turca, vedete, Alime Olkai, ha vissuto intorno ai 140 anni. Non abbiamo a tanto, però, se possiamo riconoscere qualcosa che ci sta togliendo energia vitale, probabilmente è giusto farlo, per esempio facendoci un viaggio nell'organizzazione Pnei. Chiaramente sarà abbastanza veloce con le slide, perché questa è un'intera lezione del corso di formazione, quindi oggi ho mezz'ora, vi devo far vedere anche un po' di casi clinici, per cui perdonatemi se andrò velocemente su qualche slide. Però vi dicevo, abbiamo questo sistema stupendo, sistema psichico, nervoso, endocrino, immunitario, che si collega attraverso diverse modalità di interazione, dove, vedete, poi, le modifiche avvengono per stimoli fisici, l'ho messo a posto al primo posto, perché lo stimolo fisico non è lo stimolo solo, poi ci sarà la relazione di Alessandro sui campi elettromagnetici, però dobbiamo abituarci a vedere la complessità dei fattori interagenti con il nostro equilibrio. E chiaramente non vi posso parlare di tutti, perché oggi vi parlerò di riattivazioni da Epstein-Barr, per cui facciamo un percorso di come siamo organizzati a livello immunitario. Chiaramente, tenendo presente che l'immunità è nata, e beh, non è piccolina, vedete le superfici, la moncosa congiuntivale, quella genitale, beh, vi ho messo l'endotelio vassale, sistema immunitario innato nell'endotelio vassale di circa, nell'organismo, 1600 metri quadri. E sottintende un grande sistema di regolazione che si chiama VALT, che sta per Vascular Associated Linfoid Tissue, che certamente non è così iperespresso come può essere il GALT, però sicuramente, se gentilmente mi prepari un bicchierino di acqua, grazie. Grazie. Grazie, Manuel. Dicevo, chiaramente, dobbiamo pensare che poi questa immunità a un certo punto chiede aiuto, come è giusto che si faccia in una famiglia, a questa seconda parte dell'immunità, dove i protagonisti sono alcune cellule, di cui ha parlato anche stamattina il bravissimo e simpatico Aloisi Antoni, no? Però dobbiamo considerare, dobbiamo fare i conti, soprattutto con i linfociti. E sappiamo che il ruolo dei linfociti deve conservare la memoria dei reagenti patogeni con i quali sono venuti a contatto. Quindi sono come delle serrature e diversi agenti patogeni, come delle chiavi. Però, che sta succedendo? Tanti fattori prenatali e nei primi anni di vita possono alterare la corretta maturazione del nostro sistema immunitario. Ve ne ho messo qualcuno, eh? Voglio dire, ce ne sono molti di più, però, visto che prima Marcus parlava di quello che può rilevare un S-Drive, vi ho messo al primo posto quello che rileva l'S-Drive, gli inquinanti ambientali, i metalli tossici. Io ho guarito ultimamente una signora di 43 anni, scoprendo un metallismo, però, sapete qual era la sua patologia? Una depressione, completamente regredita. Inquinanti ambientali, interferenti endocrini, pesticidi, vaccinazioni, non l'ho messa al primo posto, altrimenti rischiavo la galera. Farmaci, farmacops, cioè veleno. Fattori biologici, quindi virus, batteri, parasiti, fattori fisici, radiazioni, inquinamento elettromagnetico, eccetera, eccetera. Poi, fattori psichici, chiaramente, siccome questa è un'immunità potenziata, soprattutto durante la fase embrionale, e non dobbiamo per forza scomodare dei grandi psicologi, beh, considerate, soprattutto materni questi fattori psichici. Ebbè, abbiamo comunque un sistema periferico che a un certo punto ha un'organizzazione ancora più, è come un'azienda, no? Mediata. E la milza, beh, per un'omeopata la milza, cavolo, che organo importante. E io che sono un costituzionalista, classifico gli ipersplenici con gli iposplenici, in relazione alla natura embriologica del soggetto, per cui certi soggetti, ecco perché è interessante avere un test S-Drive, perché attraverso il test S-Drive possiamo andare a leggere sistematicamente, ma in maniera antropocentrica, cioè centrandola sulla persona. Quindi l'S-Drive ci obbliga a studiare, ma a fare clinica, quindi a prenderci cura. E quindi la milza, a qualcuno è iper, a qualche altro per struttura di tipo morfogenetico, è ipo. Ok? E poi i linfonodi. Bellissimo questo fagiolino, eh? Con le varie zone. E l'incontro speciale fra il linfocita naiv, vergine, e l'antigene, dove spesso questo antigene viene trasportato dal famoso macrofago, che qua viene letto come APC, cioè cellula presentante l'antigene. E vedremo il ruolo che avrà, per esempio, nella riattivazione dell'Epstein-Barr, la cellula APC. E quindi, dopo questo incontro, vedete, avviene un processo di proliferazione, e quindi si distribuisce, distribuisce, eh, però, prima Stenton ha fatto vedere l'importanza di questo sistema immunitario. Ahimè, dimenticato, dal 99% dei gastroenterologi. Non voglio offendere nessuno, ma è la pura realtà. Io mi occupo di questo sistema da 25 anni, io sono un medico internista, vengo da una scuola di medicina interna, vi garantisco che io lavoro in uno studio di un gastroenterologo, e vi racconto questa brevemente. Due settimane fa, una mia paziente di 46 anni, che è venuta per una diarrea cronica da riattivazione, che le ho scoperto, una diarrea cronica devastante, che l'aveva distrutta questa signora, un architetto, era stata già mia paziente tanti anni fa. Era in sala d'attesa, chiaramente lei l'aveva risolto il problema della diarrea cronica, questo sarà un caso clinico che discuteremo, Giorgio, quando faremo le serate per approfondire sull'est drive, e mentre lei era in studio, usciva dallo studio una signora giovane, che per aspettare il marito si è seduta accanto e piangeva continuamente, perché gli era stata fatta la diagnosi di morbo di Crohn. e quando è entrata la signora, è entrata con le lacrime questa signora accanto da me, perché gli ho chiesto ma che cosa è successo, analisa? Dice, dottore, credimi, mi sento in colpa, perché ho sentito il dolore di quella persona, però non gliel'ho voluto dire che nello stesso studio c'è lei, perché non volevo creare problemi. ho detto, è fatto bene, immaginate, e questo è un esempio semplificativo e profondo, di quanti passi ci sono ancora da fare in avanti. Abbiamo queste grandi possibilità e questo GALT che costituisce il secondo livello difensivo dell'intestino e due terzi dell'intero comune ubiquitario sistema immunitario associato alle mucose ha tante funzioni, protezione da malattie infettive locali e sistemiche, inibizione della colonizzazione intestinale, difesa dalla flora batterica intestinale e commensale, protezioni da reazioni allergiche, protezioni da malattie autoimmuni. Ed è organizzata su tre livelli, un livello che ha un ruolo induttore, ancora vedremo dov'è, un livello con un ruolo effettore e un livello con un ruolo che si chiama tessuto linfoide intraepiteliale citotossico. Ma il GALT è parte del MALT, ha un ruolo dominante, come se fosse una centrale di polizia a Milano con tante sedi periferiche. Ma in questo ruolo il GALT, vedete con chi collabora, collabora col BALT, col NALT, col URALT, col VALT, col SALT, col tessuto linfoido ghiandolare, e quindi ghiandole lacrimari, salivari, mammare, e con le articolazioni, sinovie e cartilagini. E questa è tutta l'organizzazione del MALT, MIS, che è, si può parlare proprio di un sistema immunitario mucosale, comune, un vero e proprio network cibernetico, dove, dall'orifizio orale più frequentemente, meno dall'orifizio anale, l'antigene entra nell'ubo intestinale, e vedete diversi tipi di antigeni, le cellule M, che sono cellule pinocitosiche, cioè una pinocitosi, la presentano all'antigene APC, scusate, presentano l'antigene alla cellula CPA, la cellula dendritica, che a sua volta va a stimolare le placche di Peyer, che è il sito induttore del GALT. E qua c'è la maturazione di quell'infocita, che poi attraverso i linfonodi mesenterici, arriva nel dotto toracico e passa nella circolazione generale, e da lì, vedete, inizia, raggiunge il sito effettore del GALT, che è la lamina propria dell'epitelio della mucosa intestinale, nonché tutti i siti effettori del MALT, per cui ci troviamo la maggior parte delle volte, e qui il test del bulbo può essere orientativo, perché molte volte viene nel test del bulbo salute cerebrale. E quindi io dico al paziente, scusa, ma tu hai una neurite o una neuroinfiammazione vascolare da base intestinale. Dice, e che c'entra l'intestino, il nervo? E poi le aggiusti il sistema e guarisce una paresi post dose di Moderna. Terza dose. È la storia di un mio paziente imprenditore di 43 anni, che lui parla di miracolo. non esistono i miracoli, uno solo è sceso una volta, è vero per giù a farlo. Noi siamo esseri semplici, vogliamo studiare, quello sì. E quindi qua è più o meno il viaggio che si fanno, poi se qualcuno di voi vuole, questa è una parte di una lezione complessa che io terrò al secondo anno anche della scuola di formazione che faremo l'anno prossimo in epigenetica, in biofisica, e nutrizione applicata collegata chiaramente alla formazione anche di chi vuole continuare questo splendido viaggio. E questi sono i principali protagonisti, manca qualcuno, però succede qualcosa e succede qualcosa anche qui quando si attiva questo meccanismo e questo è il connettivo con tanti protagonisti, questa è la matrice che si attiva e poi anche lì è importante la tipologia del soggetto perché abbiamo soggetti che per strutturazione embriologica hanno una matrice più potente altri soggetti che proprio per genesi embrionale hanno una matrice molto più attenuata nelle sue attività e per cui un carico tossinico può diventare molto più pericoloso rispetto ad altri che poi reagiscono diversamente e poi forse ne parlerà anche Eugenio di questa cosa reagiscono diversamente e quindi chiaramente perché ogni essere umano ha una modalità diversa di affrontare il suo metabolismo non a tutti fanno male gli acidi ci sono quelli che vivono in ambiente acido e quelli che vivono in ambiente alcalino ce l'hanno detto grandi studiosi di neuroendocrinologia solo che questi si chiamavano omeopati e sembrava scandaloso dire che erano omeopati no? erano medici medici che avevano capito che probabilmente in un rapporto integrato dove ancora non c'erano tutte le splendide conoscenze che ci ha fatto vedere oggi Marcus o che ci fa ascoltare ogni volta Pier Giorgio ma dove probabilmente c'era un animus pugnandi che derivava dall'aver completato il viaggio missionario aver compreso anche dal giuramento di Ippocrate che qualcuno si è dimenticato che probabilmente svolgere la funzione di medico non è solamente andare a implementare il proprio conto in banca e questa è tutta una storia dall'APC la cellula presentata d'antigene vedete il macrofago famoso arrivano gli stimoli da virus vedete quel TH1 quello è il TH2 spesso quello che mi viene in mente quando leggo un bulbo oggi la prima cosa che vedo ma cacchio a questo il TH1 cioè parlo con un linguaggio con me stesso e magari un domani questo linguaggio diventa di tutti e perché se diventa di tutti sicuramente potremo aiutare di più potremo aiutare qualcuno in più cioè potremo compiere un ruolo importante però per cui Dio ci ha messo qui sulla terra perché quando andremo lì lui ci dirà lo sai che cosa ci dirà che probabilmente tu non puoi entrare qui perché perché anche nel tuo talento non hai cercato di aiutare una persona in più rispetto a quella che potevi ma ti sei appoggiato sulle comodità del talento che io ti ho donato la vita comoda non produce buoni fiori diceva mio nonno e quando parliamo di antigene e chiaramente vi lascio tutta questa parte immunogenicità quello che è importante nello stabilire poi un rapporto con la parte secondaria della mia lezione che di cui parlerò della riattivazione di Epsenbar è capire il concetto di epitopo che è praticamente la parte di un antigene che entra in contatto con il sito di regame di un anticorpo con il recettore per l'antigene delle cellule T molti antigeni non sono immunogeni perché spesso sono apteni e hanno bisogno di un carrier spesso questo carrier è di natura proteica e questo avviene perché oggi di più questo fenomeno perché abbiamo talmente confuso il rapporto che c'è identificativo e simbolico indissolubile fra uomo e natura che ormai il nostro corpo viene invaso da disinformazioni continue per cui l'attivazione di nuovi antigeni è sempre lì dietro l'angolo perché chiaramente la maggior parte di antigeni non si comporta da epitopo anche se qualcuno già ci aveva detto qualcosa appena 25 anni fa e continuiamo a dire come mai sono sensibile al glutine questo è uno studio pubblicato sull'anset da un grande studioso olandese in cui questo studioso ha studiato chiaramente sui topi un epitopo che si chiama HVP1 che è una proteina IFA parete 1 parete 1 IFA è la parte patogena del lievito di candida si chiama IFA fungira e questa proteina ha una omologia di sequenza col glutine e quindi non solo avere una candida che di solito è il primo fattore di valorizzazione di un alterato equilibrio microbico intestinale poiché i fattori che favoriscono la candida che è un simbionte e che da dottor Jekyll può diventare mister Hyde sono molteplici fra questi al primo posto i metalli tossici e stranamente vedete che cosa succede l'HVP1 fa da ponte fra le transglutaminasi e la candida stessa quindi praticamente attiva una risposta immunitaria verso chiaramente l'adesione alle cellule intestinali e quindi chiaramente ipertrofizza la risposta immunitaria creando una sorta di substrato per una sindrome semi-celiaca in molti di noi ma spesso facciamo esami gastroenterologici e ti viene il paziente che dice dottor ma io sono 27 anni che soffro di pancia gonfia sono dilattato non sto bene sono stanco sono stitico sono così ho fatto la gastroscopia ma non c'ho niente c'ho un po' di linfociti ma non ho trovato qualcosa e che vi sta dicendo la gastroscopia che vi sta dicendo quella biospia che sta aspettando che arriva l'atrofia di villi arriverà l'atrofia di villi ma manca un fattore manca il fattore per cui questo fattore epitopo vada a gestire la problematica a livello intracellulare dove praticamente oppure a livello di recettori che sono collegati all'HLA dominante che nel caso della celiachia è il DQ2 e il DQ8 e quindi i soggetti predisposti e questo fu lo studio fatto sull'Anset questo olandese dimostrava che chiaramente un'infezione da candida era preparatoria di un terreno celiaco in soggetti a che le ha predisposti e continuiamo a produrre celiaci aspettiamo che coltivano in funghi in Puglia ce ne sono tanti infatti la Puglia è una delle regioni con maggior grado di celiachia io sono Pugliese e ve lo garantisco ne trovo tantissimi però in passato per spiegarci le riattivazioni virali c'è stato un grande medico ahimè sottaciuto per molti anni il grande Samuel Hahnemann il quale a un certo punto ha detto che ancora quando non si conosceva nulla di microbi e del sistema apnei che c'era una correlazione netta fra un agente patogeno e l'insorgere di una malattia cronica e lui chiamò questo miasma perché non aveva in mano S-Drive sarebbe stato meraviglioso non aveva neanche in mano un laboratorio ma annusava i pazienti e da annusare i pazienti notava il miasma cioè la puzza del paziente che classificò in psora psicotismo e luetismo un secolo dopo la quarta diatesi il tubercolinismo fu riconosciuta da un grande omeopata svizzero che è Nebel e secondo Hahnemann vedete come spiegava le riattivazioni no? il corpo inizialmente produce una malattia acuta in risposta a un agente patogeno che era l'absore collegata al parassita della scabbia istamina un grande nemico moderno un grande nemico 4 minuti ok vado avanti no no tranquillo tranquillo lo so lo so ma tranquillo dopo la guarigione della malattia acuta l'individuo poteva avere una perturbazione della forza vitale questa fase si chiamava fase latente di psora che poteva portare nel tempo alla malattia cronica è quello che succede oggi vedete oggi viviamo molto tempo nella fase di latenza questo è importante perché perché se vogliamo veramente procedere a quella che è una rivoluzione attraverso uno strumento unico che può permettere un linguaggio comune noi possiamo garantirci una rete di informazioni su cui interagire a più livelli per poter favorire l'allontanamento di questa fase di latenza il miglioramento della qualità biologica dell'individuo e portare l'individuo verso uno stato di salute più vera perché molte volte si vive in questa sorta di limbo in questa sorta di limbo dove e vengo all'ultima parte oggi vi ho voluto parlare di questo di questo il gigante silente è bello il gigante silente perché perché le sue riattivazioni che sono molto di più beh sicuramente questi sono alcuni sintomi delle riattivazioni no e ne potevo mettere altri però quanti pazienti avete che stanno avendo questi problemi poi non vi ho messo vasculopatie tante altre cose tanto potrebbe essere tutto stranamente vedete c'è una cellula si chiama cellula dentritica plasma citoide che permette inibendo la replicazione del virus favorisce la latenza cioè la nostra cellula ci dice a sto virus sì tu sei un malandrino però stai con noi non ti preoccupare nel frattempo però arrivano fattori che perturbano l'equilibrio considerate che questo è un lavoro fatto dalla fondazione italiana sclerosi multipla e noi che armi abbiamo per capire questa perturbazione di questo equilibrio abbiamo l'indagine sierologica certamente anche la timpizzazione linfocitaria ma questa ci può dire molto non mi soffermo sulle particolarità vorrei farvi comprendere come siamo di fronte vedete già nel 71 una correlazione fra la presenza di ABV e lupus era stata già studiata e poi altri studi su altre malattie autoimmuni e questa invece è perché indagare la sierologia ce lo dice il professor Michael Pender identificando otto passaggi necessari per le evitati se no sconfinavo molto e si arrabbiava il mio amico al di là di questo vedete queste sono le ricerche che dobbiamo fare a livello sierologico queste sono questo è un altro studio che dimostra come un epitopo come quello prima della candida che si chiama EBNA2 è antigene nucleare del virus Epsenbar abbia la capacità di interagire con il DNA umano in sezioni in cui il rischio genetico di contrarre la malattia è maggiore quando uno dice dottore come curi le reattivazioni con la natura così nutraceutici salute salute dell'intestino drenaggio terapia specifica nutrizione adeguata stile di vita adeguato poi chiaramente si può fare altro io vi ho portato alcuni casi clinici questo è un problema di una signora che da vent'anni aveva un grave linfedema e dalla pagina degli indicatori vedete post virus fatto gli esami di laboratorio scoperta reattivazione di citomegalovirus e di epsenbar completamente guarita non lo dico io me lo dice lei in questo messaggio sono vent'anni che andavo in giro e avevo perso ogni speranza anzi non volevo venire da lei dottore perché pensavo che lei fosse uno dei tanti fortunatamente per lei no questo è un caso eclatante di un uomo che viene per diabete ma a cui lo scoprire la riattivazione non solo gli ha migliorato il diabete ma vedete che casino aveva nella pagina dell'indicato di resistenza era iperattivato infatti aveva sviluppato a 28 anni un'allopecia gravissima universale a 30 l'antinoidite da scimoto a 36 un'ipertensione arteriore a 44 un diabete mellito di secondo tipo questi sono i suoi esami sono migliorati li abbiamo rifatti a distanza di 4 mesi l'EBNA si è ultradimezzato una buona notizia perché quando dimezzate l'EBNA l'EBNA ricordatevi che è l'epitopo attivatore anche della patologia autoimmune lui era questo a settembre ed è quello a ottobre sono casi che possiamo portare di fronte al ministero senza problemi io ho tutte le firme questo caso di un paziente depresso giovane 36 anni anche questo vedete post virus come primo segnale io vi sto facendo vedere pochi casi perché altrimenti qualcuno si arrabbia scherzo ho finito ho finito ho finito vedete cioè vedete il segnale qui il segnale dà un'opzione poi è il professionista che deve trasformare quell'opzione in possibilità e che volete i testi che vi danno già la diagnosi come diceva il professor Spaggiari e vi danno anche la terapia andate lontano da quei test vuol dire che vi vogliono annullare vi vogliono togliere la vostra capacità individuale di curare non perdetela mai questo è un bambino 12 anni afte recidive l'ultima di 5 cm non le ha permesso di mangiare per una settimana completamente regredite Andrea è amico intimo di mio figlio da settembre a oggi non ha avuto più un'afte e sta crescendo immaginate in un'età delicata dove gli abbiamo scoperto un'infiammazione della barrientesinale come può permettere a questi di crescere un piccolo segnale che vi aspettate nel bambino 3000 segnali e vedete che stava scusate post virus batteri muffe cioè un bambino di 12 anni scusate questi sono gli esami del bambino di 12 anni che neanche sapeva di aver avuto la monocleosi non lo sapeva perché la maggior parte non lo sa questo è un altro caso di una signorina che è la figlia di un caro amico di Arese uno studio di Arese da 20 anni mi ha portato questa ragazza perché nell'ultimi 4 mesi aveva fatto 12 diversi tipi di antibiotico per una tonsillite purulenta streptococcica che non regrediva l'ultima proposta era quella di togliere le tonsillie a 22 anni una fosforica che stranamente anche lei gli ho fatto fare le attivazioni guardate 750 il VCA maggiore di 500 le BNA quest'ultimo caso e chiudo dall'età di 34 anni di anni sia artiteremantoide pregressa tiroidite da scimoto non più responsiva a farmaci la sintomatologia algica dei diversi mesi dopo scoperta di attivazione virale con terapia omeopatica nutracetici microimmunoterapia dietro in poco tempo completa remissione del dolore migliora tanti disturbi perde peso negativizzazione degli esami di laboratorio non solo l'ANA ma anche i TPO che sono più difficili i TPO a sparire soprattutto i farmaci che non facevano effetto buttati nel cestino e questa è la sua post-virosi guardate vedete questi sono gli esami ci sono gli esami di tutti e questo è un video che mi ha voluto regalare ieri una mia paziente una mia amica se lo puoi mettere non lo so c'è concludo con questo dove sta la freccia vai sulla freccia ma non no no vai sulla freccia e si apre vai salve a tutti mi presento sono Elisa Paola la freccia la freccia la freccia la freccia la freccia la freccia la freccia